Grazie. Grazie. Grazie a tutti. 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 delibera una rimodulazione del piano banda ultralarga per favorire la connettività di imprese, famiglie e scuole. È stato infatti deliberato l'utilizzo di fondi per un totale di 1.546.000.000 euro, di cui 400.000.000 destinati al piano scuola, per il collegamento di oltre 32.000 plessi scolastici a 1 giga in tutta Italia, con l'avvio di bandi previsto nel prossimo mese e le prime attivazioni già a partire dal prossimo settembre. Inoltre, laddove sia già presente la fibra ottica pubblica e nelle aree bianche, in cui sono ricomprese diverse zone rurali e montane del Paese, è stato pianificato di collegare anche i plessi scolastici delle scuole pubbliche primarie e dell'infanzia. In questo caso il cronoprogramma prevede il collegamento del 10% dei plessi scolastici nel 2020, il 92% dei plessi scolastici entro il 2022, per arrivare al 100% dei plessi e il completamento del piano entro 2023. Con i restanti fondi della misura straordinaria è stata prevista l'attivazione di voucher a famiglie e imprese in tutta Italia, con uno stanziamento di circa 1 miliardo 146 milioni di euro. In considerazione delle risorse disponibili, per alcune regioni si è stabilito di dare priorità all'abbattimento del digital divide tra aree urbane e zone rurali e montane, dando la possibilità alle amministrazioni regionali di limitare l'attuazione della misura ai soli comuni montani o ad aree interne caratterizzate da una bassa densità di abbonamenti ai servizi di connettività e digitalizzazione. L'erogazione dei voucher dipenderà peraltro dalle richieste di famiglie e imprese. Tuttavia, da una simulazione effettuata, si ipotizza l'erogazione di voucher per circa 366 milioni di euro entro il 2020, fino ad aggiungere ad un'erogazione totale delle risorse impegnate entro il mese di settembre 2021. Relativamente allo stato di attuazione del piano aree bianche, si evidenzia che i rallentamenti registrati nell'avanzamento dei lavori sono dovuti a una molteplicità di fattori, quali, ad esempio, litere le tempistiche di rilascio dei permessi necessari all'avvio dell'attività di apertura di cantiere e di scavo, le difficoltà nel riparimento di manodopera qualificata, le carenze di un efficiente sistema logistico di approvvigionamento dei materiali, nonché, da ultimo, l'impatto dell'emergenza sanitaria causata proprio dal Covid-19. Al fine di accelerare le attività, il COBUL ha definito un nuovo conoprogramma delle attività con le regioni e si è dotato di una dashboard in grado di evidenziare lo stato di avanzamento dei lavori e le relative criticità resa disponibile sul sito della società Infratel dal 20 marzo 2020. Tra i progetti, tra le attività più recenti promosse dal Ministro dello Sviluppo Economico, segnalo anche il progetto Wi-Fi Italia, che ha l'obiettivo di permettere a tutti i cittadini di cornettersi gratuitamente e in modo veloce a una rete Wi-Fi libera e diffusa su tutto il territorio nazionale. Tale progetto è dedicato a tutti i comuni, specialmente i più piccoli, al fine di ridurre il divario digitale nel nostro Paese e a superare lo spopolamento di alcune zone geograficamente isolate. Riguardo alle criticità di ricezione del segnale di telefonia mobile da parte di molti comuni montani, è stata sentita sul punto l'Autorità per le Garanzie delle Comunicazioni, la quale ha riferito di essersi attivata nei confronti degli operatori sin da luglio 2018, inoltrando agli stessi le segnalazioni dell'Unione Nazionale Comuni, Comunità e Denti Montani, l'UNCEM. L'analisi fatta ha mostrato effettivamente, in ragione della morfologia e scarsa densità abitativa, una inferiore copertura del territorio nei piccoli comuni, compresa circa tra il 77 e il 180%, sebbene la copertura della popolazione risulti mediamente del 97-98%. A tale riguardo, l'Autorità ha avviato un ulteriore specifico focus, richiedendo agli operatori mobili dati aggiornati sulla copertura dei comuni più critici in termini di connettività. Si segnale inoltre che il Ministero dello Sviluppo Economico sta compiendo un'efficace azione di sensibilizzazione nei confronti delle amministrazioni interessate, anche favorendo il dialogo tra i diversi livelli istituzionali. Sul punto, la società Infratel ha nel mese di aprile scorso inviato a Uncem a sollecitare i responsabili tecnici e amministrativi delle comunità montane al rilascio delle autorizzazioni necessarie per completare il collaudo dei comuni, nonché a favorire l'uso della cosiddetta microtrincea. In conclusione, il Ministero dello Sviluppo Economico continuerà a vigilare sull'avanzamento del piano Bull e continuerà a monitorare costantemente le fasi attuative poste in essere dal concessionario Open Fiber in tutto il Paese, affinché si giunga a più presto a colmare il divario digitale ancora esistente nelle cosiddette aree a fallimento di mercato, comprese le zone rurali e montane del nostro Paese. Sottosegretario, se la sentissi per la prima volta la voterei perché tutto a posto, tutto a posto. Però ci sono alcuni problemi che affronteremo in maniera più dettagliata quando esamineremo le mozioni sul divario digitale che sono programmate a breve in Aula. Le leggo solo cosa ha detto il Ministro Patuanelli in una recente audizione al Senato, parlando di banda ultralarga. Il piano avrebbe dovuto essere implementato fino all'80% nel 2008 2020, ma se arrivassimo al 40 saremmo già autori di un'accelerazione forte, perché oggi solo 80 comuni sono stati collaudati su oltre 6.000. Dopodiché voi siete due anni che siete al Governo e abbiamo una situazione nella classifica mondiale della competitività digitale, siamo arrivati al 41esimo posto perdendo in tre anni sette posizioni su 63 Paesi. Allora, la situazione delle le intenzioni. Non ci crediamo, non ci crediamo perché tra l'altro ci si continua a fidare a Open Fiber che ha chiaramente denunciato le sue carenze nelle capacità di portare a termine l'infrastrutturazione. Non ci crediamo perché la questione del segnale televisivo, per esempio, è una questione che con i colleghi anche piemontesi abbiamo approfondito. C'è stato addirittura un sopralluogo al centro RAI di Torino e continuano a esserci intere zone del Piemonte che pagano il canone e sono al buio, non vedono la televisione. Non ci crediamo perché ci sono alcune zone del Piemonte dove in stato normale le persone non hanno nessun tipo di collegamento, nessun tipo di collegamento internet e per mandare una mail o mandare un whatsapp si devono spostare di alcuni chilometri, andare nel comune vicino e sperare che lo spot del comune funzioni. Questo ovviamente in termini normali. Durante il lockdown abbiamo persone che si sono ritrovate nel medioevo. Allora cerchiamo di prendere sul serio questo tema perché è un tema, qui si continua a parlare di divario digitale. In realtà se va avanti così, tra poco col 5G entreremo anche nella nuova era dell'internet delle cose, ci sarà un divario epocale tra chi rimane nel medioevo e chi fa un passo nel futuro. Se non ci sarà un intervento radicale si spopereranno intere zone del nostro Paese perché vorranno lavorare, vorranno connettosi, vorranno essere nel futuro e non ci possiamo permettere anche perché queste zone sono le zone montane che sono quelle che abbiamo più trascurato e non meritano di essere abbandonate a se stesse. Grazie. Il deputato Marco Di Mare ha facoltà di giustizia di interrogazione Paita su iniziative urgenti per favorire la realizzazione delle reti 5G e superamento digital divide. Un minuto, prego. Grazie Presidente, mi scuso per il ritardo, ero impegnato in prima commissione di cui sono componente. Molto rapidamente questa interrogazione ha lo scopo di portare all'attenzione del Governo la necessità di intervenire per arginare in qualche modo il diffondersi di ordinanze da parte dei sindaci che in qualche modo frenano lo sviluppo della rete 5G sul territorio, non perché si voglia in qualche modo prevaricare l'autonomia dei comuni e delle amministrazioni ma perché ormai è ampiamente dimostrato che non ci sono alcuni rischi differenti da quelli delle normali frequenze che da oltre vent'anni si utilizzano per la telefonia mobile e per cui non si ravvisano molto spesso le necessità di queste ordinanze che bloccano la posa in opera degli impianti e quindi molto spesso, soprattutto nei piccoli comuni, impediscono di colmare quel digital divide di cui anche poco fa si stava discutendo. Quindi questo è il senso della interrogazione. Governo. La questione sollevata dall'onorevole interrogante con l'atto in discussione riguarda in particolare le crescita che stanno emergendo per lo sviluppo delle infrastrutture di rete basate sulle nuove tecnologie 5G. Le stesse deriverebbero sia dai timori legati agli effetti di tale tecnologie che hanno portato al proliferale di divieti di installazione su oltre 300 comuni, sia per i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici, benché i limiti nazionali siano più restrittivi rispetto a quelli degli altri paesi europei. Pertanto, innanzitutto, in riferimento al quesito posto dall'onorevole Di Maio, vorrei precisare che il Ministero dello Sviluppo Economico ha sempre collaborato ad iniziative ed attività in grado di garantire gli investimenti da parte delle imprese in settori innovativi e dalle grade potenzialità. In secondo luogo occorre sottolineare che la stessa Commissione europea, di fronte al crescere delle fake news attribuite al 5G, ha ritenuto necessario emanare recentemente alcune linee guida per i servizi di portavoce della Commissione sui seguenti argomenti. Una line to talk sulle implicazioni del 5G e sulle preoccupazioni relative alla salute, tenendo conto in particolare delle recenti notizie false che collegano lo sviluppo del 5G con la diffusione del coronavirus, una line to talk incentrato sul regolamento di attuazione previsto per le piccole celle e le relative a pressioni dei campi elettromagnetici. Tali linee guida sono state trasmesse al Radium Spectrum Policy Group e dal regolatore europeo delle comunicazioni elettroniche, il BEREC, e a tutti gli Stati membri del Radium Spectrum Policy Group. Sulla scorta delle iniziative assunte a livello europeo, dunque, ANCI ha pubblicato lo scorso 13 maggio una nota informativa sulla tecnologia 5G, con tutte le informazioni e il quadro giuridico di riferimento a supporto degli enti locali, nello svolgere le proprie competenze amministrative in tema di installazione di impianti radioelettrici di comunicazione, anche per fare carezza sulle preoccupazioni relative alla salute, al fine di arginare di veti di installazione basati spesso su notizie false o non scientificamente comprovate. Recentemente il MISE ha inoltre avviato una consultazione sul mercato, sull'uso attuale e futuro del sistema mobile, con particolare riferimento al sistema mobile di seconda e terza generazione, proprio alla luce delle recenti evoluzioni degli standard tecnologici, che stanno modificando profondamente l'intera feriera dei servizi mobili e considerato che il 5G potrebbe trasformare in maniera radicale significative porzioni del tessuto industriale del Paese, favorendo le comunicazioni macchina-macchina e consentendo la creazione di nuovi servizi ad elevata intensità tecnologica. Prego, collega Di Maio. Ringrazio per la cortese risposta, credo che sia incoraggiante il fatto che ci sia un'attenzione da parte del MISE sul tema che abbiamo voluto sollevare e allo stesso tempo vogliamo stimolare e sollecitare ulteriori azioni che possano in qualche modo da un lato tranquillizzare e limitare al massimo le preoccupazioni dei cittadini, alcune anche in maniera plateale, le abbiamo sentite recentemente in alcune manifestazioni di piazza con toni che definire carnevaleschi è un eufemismo. Quindi è necessario compere ogni sforzo possibile per smentire e smontare queste fake news che spesso inducono le amministrazioni locali a bloccare la diffusione del 5G ed è necessario però anche, credo, intervenire in maniera sempre più convinta e determinata per favorire la diffusione di questa rete e favorirla soprattutto nelle aree meno coperte e che hanno un digital divide superiore rispetto a quelle urbane, prevalentemente le zone collinari o montane, ma non solo. Le opportunità offerte dal 5G sono immense, sono davvero infinite. Credo che la pandemia abbia consentito, pur nella sua drammaticità e negli effetti devastanti per la nostra economia che ha portato con sé, però abbia creato forse anche una maggior consapevolezza della necessità di utilizzare le infrastrutture digitali al pieno delle loro capacità sia per le imprese ma anche per i cittadini. E quindi penso che ci possa essere di fronte a questa crisi anche l'opportunità di fare un ulteriore salto di qualità sotto il profilo tecnologico ma anche culturale e quindi di provare a insistere con maggior forza. Tra l'altro abbiamo visto anche che nelle linee guida, nelle proposte avanzate dalla task force guidata dal dottor Colau, il tema del 5G era un tema posto all'attenzione, per cui ci auguriamo che questo atto abbia in qualche modo potuto sollecitare il Ministero a continuare e se possibile incrementare il proprio impegno nella diffusione di questa tecnologia. Grazie. A lei. La deputata Bruno Bossi ha facoltà di distruttare l'interrogazione sullo stato di avanzamento del piano per l'abbandono tra larga anche le aree bianche sulla trasparenza delle procedure di evidenza pubblica e della convenzione di concessione. Prego. Grazie, io ringrazio il sottosegretario anche perché credo che le interrogazioni di oggi possiamo vedere hanno un punto in comune, cioè il tema del digital divide, dell'attuazione della banda ultralarga, di come affrontarlo soprattutto nelle zone più periferiche e come questa cosa si collega direttamente anche allo sviluppo del 5G. Faccio una breve digressione, credo che proprio il fatto che ci siano tante interrogazioni che convergono più o meno nella stessa direzione da gruppi anche diversi, sia di maggioranza che di opposizione, dimostra che c'è un'esigenza abbastanza ineludibile affinché il MISE intervenga in maniera più pesante, oltre anche le riunioni del COBUL, soprattutto sulla questione del 5G e delle linee guida. Vengo alla mia interrogazione, alla nostra interrogazione, proprio ai fini di capire come effettivamente, qual è effettivamente il ritardo sull'attuazione della banda ultralarga, credo che sia importante capire come si stanno sviluppando i tre bandi vinti sostanzialmente da Open Fiber e soprattutto, capendo effettivamente qual è lo stato d'avanzamento, al di là di quello che abbiamo visto anche nel piano di avanzamento che c'è sul sito, e capire che cosa si intende. Mi pare che la gara riguardasse la fornitura di una banda ultralarga FTTH, che cos'è in questo caso effettivamente, qual è l'offerta e come si sta concretizzando, e a questo fine avere l'integrale pubblicazione, oppure farla avere comunque a questa commissione, non solo dell'informazione sulle tre gare, ma soprattutto della convenzione in concessione fra Infratel e Open Fiber. Grazie. Prego, Governo. Ringrazio gli onorevoli interroganti per la questione sottoposta all'attenzione del Ministero dello Sviluppo Economico. Il piano di investimenti per la diffusione della banda ultralarga, implementata nella strategia italiana Bull, approvata dal Consiglio dei Ministri il 3 marzo 2015, integra il precedente piano banda ultralarga, approvato dalla Commissione dell'Unione Europea il 18 dicembre 2012. Esso è stato concepito in stretta sinergia con la strategia per la crescita digitale, che ha l'obiettivo di sviluppare la crescita del capitale umano, l'utilizzo di Internet e la sua integrazione nella vita della pubblica amministrazione delle imprese. Gli aiuti previsti dalla misura saranno concessi attraverso procedure competitive di evidenza pubblica, gestite in totale trasparenza, mediante un'unica piattaforma centralizzata, atta a rendere facilmente accessibili le informazioni e comparabile le condizioni di offerta tra le gare svolte su tutto il territorio nazionale. Per rendere l'operativo telepiano, il soggetto attuatore in Fratelli Italia S.P.A. ha indetto, come noto, una procedura di gara attraverso tre bandi che sono stati aggiudicati dall'operatore Open Fiver. Nel merito si evidenzia che il numero di unità immobiliari oggetto dell'intervento di Open Fiver è un dato dinamico, in continua evoluzione, che si modifica man mano che si completano i progetti esecutivi nei comuni e nelle aree bianche destinatari dell'evento. Si precisa inoltre che la connessione all'utilizzatore finale del servizio di connettività sarà realizzata soltanto su richiesta del cittadino e senza costi aggiuntivi per lo stesso. Sul punto relativo agli oneri per l'attivazione di collegamenti su rete FTTH, finanziata con i tre bandi menzionati, è stata interpellata anche l'autorità per le garanzie delle comunicazioni, la quale ha riferito che il listino pubblicato da Open Fiver prevede esplicitamente un contributo, servizio di primo allaccio, che consente di connettere le unità immobiliari alla rete finanziata. Tale contributo, a carico dell'operatore Retail, è stato fissato da Open Fiver e approvato sulla base di criteri d'equità e ragionevolezza dalla Gcom, nella misura di 260 euro una tantum. Successivamente Open Fiver approvò su una rimodulazione dello schema tariffario, che venne rastrutturato con un contributo una tantum ridotto a 110 euro, in luogo di 260, e una quota mensile di canone di 2 euro. L'autorità ha precisato inoltre che detto contributo ad oggi è stato comunque offerto in proporzione al valore di 110 euro. In merito alla pubblicazione degli elementi contrattuali, Infrate l'ha comunicato che sono tutti pubblici dati dell'affidamento e dell'avanzamento del singolo progetto. Con riferimento, infine, alla trasparenza sul numero delle unità immobiliari e dei comuni connesse alla rete finanziata, si rappresenta che il sito web della Bando Oltralarga, aggiornato quotidianamente da Infrate l'Italia, fornisce dunque tutte le informazioni sullo stato di avanzamento del progetto, incluso il numero di unità immobiliari oggetto della concessione, che vengono aggiornate sulla base delle risultanze delle progettazioni esecutive approvate. Prego. Ma io non sono contenta di questa risposta perché è elusiva e mi auguro che forse chiedendo un'audizione con l'amministratore delegato di Infrate l'ha possibile avere una risposta più precisa. Perché il punto di partenza è avere una visibilità sul contratto di concessione. lì è chiaro che cosa si intende nel momento in cui, diciamo, è stata aggiudicata la gara l'FTTH, qui è detto che viene pagato da retail, però il bando di gara era perché si fornissero servizi direttamente FTTH. Poi i costi di attivazione della connettività è un altro discorso, ma un conto è se la fibra arriva fino a dentro il palazzo, un conto è se la fibra arriva in un pozzetto a 40 metri. Quello non è più FTTH né FTTB, ma FTTC o FTTN come lo vogliamo chiamare, cioè non nel building, non nella casa. Quindi era importante che invece ci fosse una chiarezza sul contratto, ci fosse una chiarezza sul tema di FTTH e soprattutto anche, diciamo, è vero che sul sito possiamo controllare, però c'è un'interrogazione, si poteva fare mettere un punto ad oggi e presentare lo stato d'avanzamento ad oggi. Grazie. A lei. Il deputato Capitani ha facoltà di deduzione e interrogazione sulle regole relative all'attribuzione dei voucher per la banda oltralarga famiglie e imprese. Grazie Presidente. Salto un po' di premesse. Il tema è quello dell'erogazione dei voucher, di cui abbiamo parlato abbondantemente in questa Commissione e anche sostenuto in maniera corale con una serie di risoluzioni. È ovvio che lo scenario post-Covid ha cambiato anche alcune priorità di sviluppo, sia per sostenere le imprese che le nostre scuole. Quindi sostanzialmente ricordando tutto l'iter che ha portato poi il Cobula a stanziare finalmente i voucher, chiediamo che i voucher dovrebbero essere effettivamente resi disponibili a famiglie e imprese a partire dal mese di settembre 2020. L'erogazione non avverrà direttamente a favore dei beneficiari, ma indirettamente per il tramite degli operatori che serviranno di un'apposita piattaforma telematica gestita da Infratel. Solo per i voucher per le famiglie con isa inferiore a 20.000 euro si intende attivare la misura entro il mese di luglio 2020. Ovviamente auspichiamo che questo avvenga. La proporzione è 20-80% di destinazione tra centro-nord e sud. In questo momento storico va necessariamente rivista alla luce dell'effettiva presenza sul territorio della Bula e delle necessità di favorire la ripartenza nei territori maggiormente colpiti da Covid-19. Quindi chiediamo al Governo se e quali iniziative si intendano adottare per rivedere le regole di dettaglio per l'attribuzione dei voucher. Governo. La questione sottoposta dagli onorevoli interroganti permette ancora una volta di aggiornare il Parlamento sull'attività smolta in materia di banda larga. La disponibilità di banda oltralarga è infatti essenziale per i servizi ormai divenuti parte della quotidianità quali lo smart working, la teledidattica, la telemedicina, l'accesso ai contenuti in streaming e on demand, la sviluppo dell'attività di impresa. Come noto, Infratelle S.p.a. il 15 maggio 2019 ha effettuato per conto del Ministero dello Sviluppo Economico una consultazione tra gli operatori per verificarne le intenzioni di investimento e aggiornare la copertura del servizio a banda oltralarga nelle aree grigie e nere del Paese. Si è potuto rilevare pertanto l'esistenza di un potenziale di vario tecnologico tra le aree del Paese che potrebbero, in vista degli obiettivi 2020 e 2025 della Gigabazzo Site, portare ad un rallentamento nel processo di ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche e di adozione di servizi di nuova generazione in Italia. Anche facendo del tesoro di questi dati, il Comitato per la diffusione della banda oltralarga COBUL, il 5 maggio 2020, ha formalmente avviato la fase 2 della strategia nazionale. Oltre a incentivare le infrastrutture, tale fase prevede misure di sostegno alla domanda di servizi ultraverosi nella forma di voucher. In particolare, gli stessi rappresentano un'importante novità per famiglie e imprese che potranno beneficiare di un contributo per l'acquisto di servizi di connettività. I voucher per le famiglie saranno erogati in due fasi. La prima sarà per famiglie con insieme al di sotto dei 20.000 euro, per le quali dall'Unione Europea è prevista una procedura di notifica semplificata a partire già da fine estate. Per le famiglie meno abbienti vi sarà anche la possibilità di richiedere un contributo aggiuntivo di 300 euro per disporre incomodato d'uso di un tablet di fascia media o di un pc. Possibilità è questa introdotta proprio per rispondere alle esigenze dei nuclei familiari di dispositivi per lo smart working e la teledidattica. La seconda fase di erogazione è destinata alle famiglie con un insieme superiore a 20.000 euro, per le quali è necessaria una notifica alla Commissione Europea che richiederà circa 60 giorni, quindi potremmo partire comunque entro il 2020. L'importo complessivo della misura è pari a 1.246.000.000 di euro, diviso su base regionale nel rispetto del criterio di ripartizione 20-80, cioè 20% le regioni del centro nord e 80% le regioni del sud, come previsto dalla legge 147-2013. Di questi 600 milioni circa sono destinate alle famiglie, mentre i rimanenti 546 milioni circa alle imprese. Si stima che ve ne potranno beneficiare a livello nazionale oltre 2 milioni di famiglie, circa il 16%. Viste le citate modalità di riparto 80-20 dei fondi, in alcune regioni la percentuale di potenziali famiglie beneficiare è molto più alta, come ad esempio il 65% in Molise, 41% in Basilicata, 39% in Sardegna, 33% in Puglia e Sicilia. In base agli studi effettuati da Infratel, gli importi dei voucher e la relativa qualità del servizio sono stati differenziati a seconda del target di riferimento, nel rispetto del principio della neutralità tecnologica. Per le imprese è prevista la possibilità di ricevere un contributo fino a 2.000 euro, per l'attivazione di un collegamento in fibra e fino a 500 euro per una connessione a prestazioni inferiori, almeno 30 megabit. Sisteme che potranno beneficiare a livello nazionale oltre 400.000 imprese. Le regole di dettaglio per l'attribuzione dei voucher, sia per le famiglie che per le imprese, sono al momento in fase di definizione, attraverso le interlocuzioni con gli uffici competenti della Commissione europea, per l'autorizzazione del regime di aiuti di Stato. In conclusione, confermo l'impegno del Governo nel continuare a individuare ogni misura tecnica o normativa utile ad accelerare la diffusione della banda ultralarga, in modo da permettere a tutti di sfruttare le potenzialità offerte da un adeguato e paritario accesso alla rete e ai servizi digitali. Prego, Capitano. Grazie, Sottosegretario. La ringrazio appunto per la risposta dettagliata. Purtroppo non possiamo essere soddisfatti perché nella parte finale, dopo tutte le premesse che conosciamo bene, rileviamo che le regole per l'attribuzione dei voucher sono purtroppo ancora, immagino non dipenda da lei, in fase di definizione. Qui si aprono due fronti. Uno che non abbiamo toccato a livello di interrogazione, che è quello delle scuole, che riapriranno a settembre e anche esse sono ancora in attesa di ricevere le indicazioni su come avverranno i 400 milioni e purtroppo dubitiamo che l'anno scolastico si possa aprire con la banda ultralarga in tutte le scuole, come promesso. E da questa parte vedremo se tra le maglie di qualche provvedimento riusciremo a intervenire perché lo scenario è cambiato. È vero che c'è una legge del 2013 che stabilisce i criteri di ripartizione, però quei criteri che salgono a sette anni fa non sono più attuali, ci sono delle esigenze, manca un monitoraggio dell'effettiva presenza della banda ultralarga su cui si potrebbero ritarare queste percentuali e soprattutto, l'abbiamo già fatto con alcuni ordini del giorno emendamenti, chiediamo soprattutto che la priorità venga data a livelli di voucher a chi ancora non ha contatto, non è connesso con banda ultralarga. E in seconda battuta si destinino questi voucher agli upgrade tecnologici di quanti già viaggiano intorno o sopra i 30 mega. Avete una grande responsabilità, sono tanti soldi, sono un punto di pil percentuale, quindi chiediamo che questi soldi, almeno in questo caso, vengano destinate alle effettive esigenze del Paese e non vengano sprecati. Sottosegretario Liuzzi, come probabilmente lei sa, il libro delle Lamentazioni è un libro della Bibbia Cristiana. È stato scritto per rispondere agli eventi collegati alla conquista di Gerusalemme da parte dei Babilonesi nel 586 a.C. È composto da cinque capitoli contenenti vari inni poetici descriventi la desolazione di Gerusalemme distrutta, vista come un castigo divino per i peccati degli ebrei. L'oderna interrogazione sottosegretario si riferisce agli atavici e odiosi disservizi nella trasmissione televisiva del digitale terrestre. Ecco, ci domandiamo se non sia arrivato il momento di scrivere un ulteriore capitolo nel libro delle Lamentazioni Bibliche. Esiste una mappa che localizza sul territorio nazionale i noti disservizi sulla copertura delle trasmissioni della RAI. Segnali televisivi che spesso non raggiungono in modo ottimale o addirittura sufficiente molte aree montane e collinari. Nel riportarmi integralmente al testo dell'interrogazione depositata vado direttamente al quesito. Quali sono le iniziative di competenza del Ministro interrogato che si intendono urgentemente intraprendere prima che entra in funzione il nuovo sistema di trasmissione del digitale terrestre affinché gli utenti dei comuni che io rappresento qui in Parlamento, i comuni della Murgia e Murgiani e Premurgiani dell'entroterra barese, affinché questi comuni possano usufruire senza ulteriori disagi dei segnali televisivi anche in considerazione del fatto che detto servizio viene puntualmente pagato con il canone di abbonamento. Grazie. Governo. Ringrazio gli onorevoli interroganti per la questione sottoposta all'attenzione del Ministero dello Sviluppo Economico. Come noto il contratto di servizio 2018-2022 tra Mise e RAI disciplina l'attività della concessionaria pubblica e in merito all'offerta televisiva e in previsione della liberazione della banda 700 che prevede che si raggiunga la diffusione gratuita di tutti i contenuti audiovisivi di servizio pubblico al 100% della popolazione via etere, ovvero quando questa non è possibile via cavo e via satellite. Nell'attuazione del citato contratto di servizio dunque la RAI garantisce la copertura del 100% a tutta la popolazione con la propria offerta attraverso l'utilizzo di diverse tecnologie e piattaforme, come TVSAT, piattaforma satellitare nata con l'obiettivo di promuovere la diffusione dell'offerta televisiva digitale terrestre gratuita sul territorio nazionale attraverso il digitale satellitare, RAI Play, la piattaforma internet gratuita sulla quale è presente l'intera offerta editoriale della RAI, sia in diretta e streaming con possibilità di on-demand, al fine di garantire all'utenza il servizio e risolvere le problematiche di ricezione presenti sul territorio. In particolare per quanto riguarda la carenza di ricezione televisiva nelle zone dei comuni di San Michele di Bari, Acquaviva delle Fonti, Turi e Casa Massima, la RAI, sentita sul punto, ha riferito che gli impianti RAI MUX 1 e RAI MUX 5 di Bari, autorizzati all'aumento di potenza in data 4 novembre 2015, a seguito di seguraloghi effettuati nel 2017, ricevono con qualità da buona a ottima. La RAI e l'ispettorato territoriale di Puglia, Basilicata e Molise ritengono infatti che la carenza di ricezione elementata dagli utenti sia dovuta alla propagazione anomala delle onde elettromagnetiche, soprattutto durante il periodo estivo, laddove la ricezione dei segnali RAI irradiati da Montecaccio viene disturbata da segnali RAI isocanali. Poiché la problematica in parola potrà essere risolta definitivamente con il passaggio a un nuovo standard di trasmissione DVB-T2, al fine di garantire la qualità del servizio pubblico è stato autorizzato l'aumento di potenza del segnale RAI degli impianti di Bari in MUX1, canale 9, e Bari in MUX5, canale 11, come ricordato in precedenza. Impianti che non risentono dei fenomeni interferenziali stagionali. Per fuire correttamente del miglioramento e accedere all'intero perimetro editoriale della RAI, pertanto, l'utenza potrà direzionare le antenne verso i citati impianti di Bari e Montecaccio, ottimamente funzionanti. Si segnala tuttavia che un'eventuale soluzione, al fine di evitare problemi di ricezione agli utenti, potrebbe essere costituita dalla ripetizione dei programmi della concessionaria pubblica ed anche di emittenti private da parte dell'ente locale interessato. Preve a presentazione della richiesta di autorizzazione all'attivazione dei ripetitori, a sensi dell'articolo 30, decreto legislativo 177 del 2005, modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, numero 44. Voglio sottolineare, infine, che l'autorità garante per le comunicazioni, la Gcom, sentita in proposito, con riferimento all'elaborazione dei pari nazionali di assenazione delle frequenze, ha comunicato che, con la delibera numero 14914, ha assicurato alla RAI tutte le risorse radioelettriche necessarie per la realizzazione del multiplex numero 1, DVB regionale di servizio pubblico, nonché per consentire la realizzazione di ulteriori 4 multiplex, nel rispetto degli obblighi di copertura di tutto il territorio previsto dalla normativa vigente. In conclusione, il Ministero dello Sviluppo Economico, nell'ambito delle proprie competenze, continuerà a monitorare per garantire che il servizio pubblico di radio e televisione sia garantito in ugual modo su tutto il territorio nazionale, attraverso gli strumenti ad oggi a disposizione della RAI. Sì, grazie, grazie sottosegretario. Vedo che ci sono dei provvedimenti che sono stati adottati da parte del Ministero per quanto io possa documentare e testimoniare che il livello di qualità del servizio sul territorio che mi onoro di rappresentare non risponde rispetto a quelli che sono i proponimenti del Ministero interrogato. Da questo punto di vista, ecco, non voglio andare a sindacare la correttezza e la veridicità delle cose che si affermano, che lei ha affermato e dichiarato, però mi interessa sapere se esiste un sistema, come dire, di monitoraggio di quello che è la qualità del servizio prestato, quali sono i tempi connessi a questo obiettivo da raggiungere, perché qui si legge, nel documento che mi è stato consegnato, che poiché la problematica in parola potrà essere risolta definitivamente con il passaggio al nuovo standard di trasmissione, al fine di garantire la qualità del servizio pubblico, è stato autorizzato l'aumento di segnale RAI degli impianti di Bari. Ecco, è stato autorizzato, ma è stato poi dopo di fatto verificato che a seguito di questa autorizzazione i risultati sono in linea con le previsioni e con quelli che sono gli obiettivi e dell'amministrazione. Ecco, io mi pongo questa domanda qua. Ad ogni buon conto, signor Sottosegretario, un conto sono quelli, e vado a terminare, un conto sono gli obiettivi e i proponimenti dell'amministrazione, un conto sono i fatti concreti, la vita che devono vivere questi cittadini. E le assicuro che il segnale non arriva, spesso e volentieri, oppure arriva male. Quindi da questo punto di vista, come diceva anche il collega in precedenza, ecco, penso che sia arrivato il momento di prendere più sul serio questo tema, non basarsi su quelle che sono le cose da fare, gli obiettivi che ci si propone a livello ministeriale, ma andare a verificare sul campo se effettivamente il servizio viene fruito e viene fruito in maniera dignitosa. Grazie. Grazie. Quindi chiudiamo questa fase della Commissione. Grazie.